Assessore, siamo qui a Missilmedia alla presentazione della squadra del nostro paese, della Don Carlo, per un campionato sicuramente ambizioso, non diciamo altro, il campo sportivo. C'è un impegno da parte dell'amministrazione, settembre, diciamo anche ottobre. Possiamo chiarire i tempi e soprattutto anche dire agli abbonati, andrete a piano stop? Sicuramente gli abbonati possono stare sereni perché andranno a piano stop, la Don Carlo andrà a piano stop e come le società locali di Missilmedia che fanno calcio andranno a piano stop. È una rassicurazione che viene non da parole dette così vane da parte nostra, ma che è dimostrata dei fatti. Stamattina siamo stati a fare un sopralluogo a piano stop proprio per vedere l'avanzamento dei lavori. Devo dire che già si sta lavorando sul campo, sul manto erboso, quindi siamo sicuri di poter ridare per il prossimo campionato. Tra settembre e ottobre l'impianto sportivo di piano stop alle nostre società locali, alla Don Carlo Missilmedia che giocava il campionato di eccellenza, ma anche alle altre società che su quel campo potranno svolgere l'attività calcistica che in questi anni, da quando abbiamo iniziato, da quando c'è stata la chiusura del campo, hanno dovuto svolgere fuori da quell'impianto. Un impianto che sotto gli occhi di tutti verrà una bellissima struttura, il progetto è ambizioso, ci stiamo lavorando, la ditta è lì ogni giorno anche oggi che la temperatura era molto alta, ma sollecitiamo giornalmente l'avanzamento dei lavori perché abbiamo anche noi la grande voglia di ritornare a piano stop, di guardare le nostre squadre, la nostra squadra del Paese direttamente dalle tribune di piano stop e non da quelle di Palermo. Buon lavoro. Grazie.